Per trovare il CUP, l'ambulatorio medico, il punto prelievi o qualsiasi altro ufficio, basterà dare uno sguardo al display del proprio telefonino e seguire le frecce fino a destinazione. Una nuova segnaletica virtuale aiuterà gli utenti del poliambulatorio dell'ASLA Torino 1 di Via Gorizia a orientarsi in modo rapido e facile all'interno della struttura. È la prima struttura sanitaria in Italia ad adottarsi in via sperimentale di questo strumento. Per attivarlo basterà scaricare un'applicazione sul proprio smartphone e inquadrare con la fotocamera i taghi installati sul pavimento del poliambulatorio. Il progetto pilota, realizzato da Tonic Mines e a costo zero per l'azienda, nasce dalla collaborazione fra ASL, CSI Piemonte e I3P, incubatore e imprese innovative del Politecnico di Torino. Il sistema prevede ci sia la possibilità di visualizzare l'intera mappa del poliambulatorio, simile a quella di un navigatore, e di visualizzare le frecce virtuali da seguire fino a destinazione. È un servizio molto particolare che opera del CSI, io lo lascerei spiegare alla dottoressa Gaveglio, perché serve ad orientare l'utente nei percorsi di ricerca attraverso uno smartphone. Fa parte di un percorso in cui, a costo zero, perché noi siamo anche in momenti di difficoltà, dobbiamo barcaminarci tra dare i servizi essenziali e anche però nel dare i servizi essenziali, darli nel miglior modo possibile per l'utente. Qui, a Saint-Gobain, siamo stati avvantaggiati dal fatto che, come vedete, è una realtà ristrutturata, messa in ordine, un nuovo, diciamo, un luogo luogo per la collettività, che abbiamo cercato di valorizzare anche con qualche percorso innovativo, perché qui c'è anche un'utenza che sente questo centro come un pochino suo, anche la circoscrizione. Il servizio è molto semplice, smart per l'appunto, vuole rendere molto facile la fruibilità dei servizi, dell'accesso ai servizi ai cittadini, che arrivano in una struttura nuova, come quella che oggi ci viene presentata qua, e quindi non hanno ancora nella loro memoria i percorsi fisici con i quali possono accedere all'ambulatorio X piuttosto che alla sala Y. E quindi questo servizio centra due obiettivi, sostanzialmente, che come consorzio abbiamo voluto, in collaborazione con la direzione generale dell'ASL, che ha dimostrato fin dall'inizio una grandissima sensibilità all'umanizzazione della relazione col cittadino, è un aspetto al quale la dottoressa Briccarello vada molto, e quindi noi abbiamo voluto, da questo punto di vista, dare un segno concreto. Una piccola cosa, non è una grandissima progettualità, ma un segno concreto. Il cittadino entra all'interno della struttura nuova, che non conosce, è dotato del suo, ormai come tutti abbiamo, smartphone, può con una facilissima app che gli viene scaricata e ci saranno dei volontari che faciliteranno il cittadino nel farlo, fotografare i tag che sono siti sul pavimento della struttura, e avere immediatamente un percorso come quello del navigatore delle macchine.